ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco real bad a cosa serve real be da un parafarmaco appartenente alla categoria degli detergenti corpo non schiumogen è commercializzato in italia dall'azienda cetrafarma srl informazioni commerciali titolare cetrafarma srl concessionario cetrafarma srl categoria di appartenenza detergenti corpo non schiumogeni confezioni real bad detergente flacone dispenser 250 ml indicazioni real be da un detergente a ph acido dispersibile in acqua con un alto potere emolliente idratante lenitivo per l'igiene quotidiana coadiuvante nel trattamento di cuti e mucose secche ed esquamate è particolarmente indicato in tutte quelle forme di prurito ed arrossamenti provocati da cause esterne modalità d'uso distribuire la dose necessaria sulle parti interessate massaggiare delicatamente sciacquare con acqua tiepida dosaggio normalmente dai 5 ai 15 ml per la detersione dei capelli da 10 ai 30 ml per la detersione del corpo descrizione e caratteristiche deterge senza provocare schiuma rispetta il film idrolipidico senza alterare il ph cutaneo avvertenze a e buona norma conservare i prodotti dermocosmetici al riparo da fonti di calore nel caso di flaconi trasparenti lontano anche da fonti di luce si consiglia di tenerli in luoghi non accessibili a bambini componenti e ingredienti acqua pegg 40 idrogena ted castor oil mea lauril sulfate cocamidopropil betaine disodium lauret solfosucinate lauret 2 ricinus comuni soil camomilla recutita extract propilene glicol pantenol poliquaternium 7 simmonsia kinensis di triticum vulgare gerem di oenotera bn soil disodium edta citric acid miazolidini lurea sodium deidrocetate bha bht parfum fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo para farmaco esaminato